28 dicembre 2011, sono le 16 circa, qui siamo sempre sul doppio senso, lato destro e ci troviamo tra, direzione la Copate, ci troviamo tra Casa Celle e Lucian di Giughiano. Questa è la cattedrale di Casa Pesina e da stamattina questo è il quarto rogo che avvistiamo, terra dei fuochi.